La Biblioteca Arturo Graff Bene, questi sono gli ingredienti di questa puntata di incontri. Osserva Torino e disegnala. Questo è il titolo del progetto di ricerca che è nato nell'ambito di Esperienza Italia 150. È stato sostenuto dalla città di Torino, dall'università, dal primo liceo artistico, dalla circoscrizione 7 e dall'associazione Piemonte Arte. Le sale della storica Biblioteca Arturo Graff martedì 17 gennaio alle ore 21 ospiteranno il concerto multisensoriale Musica Mole, i colori dei sensi, della liutista e chitarrista rinascimentale e barocca Gabriella Perugini. Bene, questo concerto fa parte e completa il calendario delle iniziative del progetto e a questo punto parliamo proprio di Osserva Torino e disegnala. Come è nato il progetto, come si è sviluppato, quanti sono stati gli studenti coinvolti, insomma esattamente di che cosa si tratta. Noi lo abbiamo chiesto a Ivana Mulatero che del progetto è l'ideatrice e anche la responsabile. Il progetto Osserva Torino e disegnala è una guida, è una guida su Torino che è nata nel 2005 come progetto teorico e poi appunto l'abbiamo realizzato a strada facendo ed è stata poi pubblicata nel 2010 su supporto dell'assessorato alla promozione turistica della città. Dopodiché l'abbiamo sperimentata con circa 2000 ragazzi di Torino e provincia, soprattutto del Bienio delle Superiori e in particolare il primo liceo artistico che ha fatto da capofila e con questa sperimentazione ora abbiamo voluto presentarla sotto forma di mostra. È una mostra molto particolare e curiosa perché ha come scenario questa della biblioteca di Arturo Graff della Facoltà di Lettere e Filosofia che tra l'altro ringraziamo la direttrice Rosangela Risso per l'ospitalità che ci ha concesso e quindi da novembre 2011 fino al 26 gennaio 2012 ospitiamo praticamente questa sorta di raccolta di quello che è successo in questo anno di sperimentazione di questa guida. E che cosa è capitato? È capitato che tutta una serie di classi sono andate per la città di Torino e inaspettatamente il pubblico, cioè le persone, vedevano ragazzi seduti per terra sui marciapiedi, sulle strade che disegnavano con questa guida in mano, cosa che normalmente non fa più nessuno di disegnare osservando un palazzo, un monumento, un muro. Allora quasi è come se fossimo diventati turisti nella nostra stessa città. Ecco, ce lo spiega, facendo proprio un esempio pratico, abbiamo qui a Osserva Torino i ragazzi hanno ricevuto uno di questi volumi, gratuitamente, e poi cosa trovavano? Trovavano all'interno dieci tappe e ogni tappa era dedicata a un aspetto particolare della città per cominciare il monumento più rappresentativo della molla antonegliana che peraltro appunto noi abbiamo voluto, fotografandola con la fotografia di Gabriele Gaidano raffigurarla soltanto in un punto a metà. A metà, quindi l'altra parte veniva completata dai ragazzi, disegnata dai ragazzi. Disegnata dai ragazzi, ponendosi in un bel punto, diciamo, di osservazione particolare dal basso verso l'alto, quindi prospetticamente non facile da raffigurare. La mole poi? La mole e poi, ad esempio, avevamo la biblioteca d'Erasmo che è una costruzione degli anni 50, interessantissima come Neoliberty di Gabetti e Isola e che normalmente non si vede perché è inserita, schiacciata tra altri palazzi e invece noi abbiamo chiesto di raffigurare le luci e le ombre che si creano proprio su questa superficie a spigoli di mattoni e pietra di Luserna. E poi ho visto la festa di Polenta. Esatto, i Murazzi anche, la scultura di Magdidù, una scultura di arte pubblica dove appunto è stata lasciata come una carta da gioco a metà, quindi specularmente manca l'altro punto. Ecco, anche questo appunto gli stessi ragazzi ci hanno detto non avevamo mai notato che in via Verdi, angolo via Santo Ottavio, ci fosse una scultura che avvicinandola gorgoglia l'acqua all'interno e quindi la città svela particolari... E dunque in mostra adesso tutti questi lavori. Esatto, tutte queste interpretazioni che vengono restituite della città e che oltretutto appunto vorremmo anche che questa esperienza di conoscenza della città si moltiplichi appunto con tutta una serie di altri apporti come ad esempio lo spettacolo di Gabriella Perugini che ci sarà martedì 17 gennaio alle ore 21 dove appunto è uno spettacolo che moltiplica questa possibilità multisensoriale quindi non solo con la vista che noi in fondo è quello che abbiamo noi coinvolto con la pubblicazione o con la mano, quindi con il disegno ma anche con l'udito, con il gusto, con il tatto cioè siano coinvolti tutti i sensi per poter ulteriormente aumentare questa conoscenza della città che appunto è sempre come dire uno scrigno che non smette di riservarci altre sorprese. Ne parleremo tra poco con Gabriella verrà poi restituito ogni volume all'autore, agli autori che... Certo che ora ci hanno prestato gentilmente quindi questi 2000 ragazzi ce l'hanno ora gentilmente prestati ieri li restituiremo alla fine della mostra e non solo loro ma anche alcune personalità del mondo della cultura del teatro, della musica hanno voluto anche loro prestarsi a questo gioco di interpretazione della città e quindi abbiamo esposto anche alcuni libri firmati alcuni libri anche di artisti come Mainolfi, come Griffa, Gastini, Ramella, Cordero volevo aggiungere che quindi la copertina anch'essa è un'opera d'artista perché in effetti rappresenta una fotografia di Gabriele Gaidano create appositamente tutte per la pubblicazione sulla quale è intervenuta l'artista Matilde Domestico che ha voluto appunto inserire questo particolare della tazzina che la connota come artista collocandola sulla cima, sulla guglia della Molla Antonelliana sulla quale quindi sta riversandosi una colata di cioccolato quindi è un altro elemento caratteristico rappresentativo della nostra città invito tutti appunto ancora a visitare la mostra che è aperta fino al 26 gennaio Grazie a tutti